Cosa succede? Aspettate, no, se no c'è il giusto cammino. Cosa succede? Ok. Vabbè, ragazzi, qui è tutto in diretta, quindi potete immaginare questa è una serata. Facciamo una cosa a tutti i tempi, 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 alle telecamera, alla sicurezza, al palco, ai ballerini, al regista, agli autori. Quindi è un colosso, questa è una macchina grande, quindi qualche cosa può succedere. Adesso mi faranno capire se è tutto apposta. Adesso è sempre colpa di me, non ci sta niente a fare. È sempre colpa di me. Io adesso non lo sento più, quindi possiamo andare? Ok? a vedere sistemato io la cantona la torta d'acqua vommiga vabbè vabbè ma vabbè ancora ti prego non andare non portarti all'improvviso dal mio corpo l'anima 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 l'anima